Con me e al mio fianco l'assessore ha il bilancio ad Abosso. Che cosa può dirci in merito al bilancio di previsione comunale del 2017? Sì, buongiorno a tutti. Stasera siamo chiamati all'amministrazione comunale all'approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2017-2019. La dice la stessa parola, bilancio di previsione. Ovviamente è un bilancio basato sulla previsione delle entrate e delle uscite, quindi un bilancio di cassa che però fa riferimento anche al documento unico di programmazione che abbiamo approvato nella seduta di ieri del Consiglio Comunale. Semplicemente abbiamo con il DUP fissato gli obiettivi che vogliamo raggiungere nell'ambito dell'amministrazione e quindi anche nell'ambito delle linee che l'attuale amministrazione forte si è dettata e quindi abbiamo indicato per ogni obiettivo da raggiungere la spesa e quindi il capitolo di spesa di riferimento. Stasera noi approviamo questo bilancio di previsione, tra l'altro ci sono una serie di emendamenti anche da parte sia della maggioranza che della minoranza che servono ovviamente ad avere un quadro più preciso ma meglio ancora a indicare le somme che verranno destinate per alcune azioni di specifico. Col bilancio di previsione non si determina ancora l'avanzo di gestione, l'avanzo di gestione è quel capitolo di spesa per gli investimenti però come già preannunciato alle televisioni da parte del Sindaco siamo uno dei primi comuni della Regione Puglia che ha adottato e quindi è stato baciato dai contributi dagli spazi finanziari che inderoga al patto di stabilità perché gli enti locali ovviamente soffrono al patto di stabilità quindi questo limite nella spesa degli investimenti noi abbiamo avuto degli spazi finanziari dove potremmo gestire questi 6.125.000 in investimenti per la nostra città e quindi per i nostri concittadini. Grazie.